Ciao sognatori, come va? Spero molto 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 bene Bene, oggi video chiacchiere e come potete leggere dal titolo sarà un mic brushing, un video dedicato interamente al mic brushing, ossia al pennello sul microfono Più o meno questo suono così Nello scorso video chiesi se era gradito un video dedicato interamente al mic brushing e la risposta è stata positiva, quindi eccomi qui Però prima di iniziare vado a salutare delle persone e spero di salutare tutti quelli che me lo hanno richiesto Se ho saltato qualche commento se non l'ho visto vi chiedo scusa Ma mi sono fatta la lista e sono andata a leggere tutti i commenti passo passo, quindi ho fatto un lavoraggio e sono andata a prenderli tutti Allora mando un bacione immenso a tutti quanti Amicael Garcia Delia Defina Marta Nardini Arianna Anna Maria Mazzariello Trouble in Paradise Leonela Leo Francisco Panozzo Luck Diaz Luca Cerno Alchi Valentina Scigliano Silvia e Clarissa ValeFriend05 Angela Lorusso Marti TV Chiara Fabris Ruben Arthur Jacopo Anna Razzini Luis Hitmaker De Carrera Perez Piuri Piuri Jazz J.C. Carmen Ferra Ferraro Riccardo Tidore Ivan Leonardi Giussi Sciano Oddio ma no 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 non ho miso gli stessi nomi ok Colleoni Ruben Mike Rale bacione a tuttissimi allora oggi ho vari pennelli quali non ho i pennelli dei cinesi oggi perché eh la maggior parte li ho buttati e quelli che mi sono rimasti sono durissimi quindi adios ho questo però mi mancano quelli là cinesati brutti vabbè questo qui che non è cinese però fa schifo quanto quello dei cinesi quindi stupendo questi sono quelli là col pelo di poni ripeto come dissi in video fa poveri poni usati per questi pennelli sclausi tremendi vabbè questo non ricordo dove mi è uscito non so manco la marca quindi ehm non ho l'idea ma che che materia ne è? è ruida cioè fa impressione c'è solo al tatto figuratevi sulla risa la risa sul foglio cioè questi pennelli qua li uso solamente per fare i video di questo genere non mi azzardo ad usarli per no 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 non so se si vede spero di si madonna c'ha tutti i peli qua spennati ma no cioè dai ripeto figuratevi come sono quando quando devi pitturarci allora li ho presi di diverse grandezze vedete e poi siccome io non conosco mezza in misura il terzo è questo e so che è abbastanza grande rispetto ai due insomma però ero troppo curiosa di sapere com'era questo micro questo pennello su questo microfono cioè il suono così bello iniziamo da questo qui il più piccolino che perciutto ho appena finito di registrare un altro video e dopo di questo ne devo registrare un altro ecco ora ve ne parlo un po' qualcuno mi aveva detto che io parlavo troppo nei video scusa però vabbè siccome questo è un video chiacchiere posso parlare allora in queste sere queste notti sto registrando più video perché diciamo che tra queste settimane queste che devono venire che praticamente sono le settimane natalizie non credo proprio di avere la calma e la tranquillità in casa anche di notte quindi ho da evitare che non riesco a a creare materiale e non può stare niente non esiste proprio non caricare un video non esiste quindi me li sto registrando un po' prima quindi se mi vedete con ciò dallo stesso modo è per questo motivo questo dovrebbe essere il lato sinistro infatti me lo sento di qua voi voi come state? tra un po' è natale quindi avete già fatto i regali? non esiste oppure cosa desiderate per natale? oppure cosa desiderate per natale? no no vabbè è bellissimo non c'è poco da fare ah il mio sfondo con i disegni vedete? giorni fa ho ricevuto un commento di una ragazza che mi aveva scritto ma El ma dov'è lo sfondo con i disegni? ma hai cambiato camera? e mi piaceva mi piacevano i tuoi disegni dietro no non ho cambiato camera no è sempre la mia camera però come dissi nello scorso video chiacchiere ho preso lo sfondo per coprire i letti perché mi piacevano e quando ho questa inquadratura praticamente quando registro con lo zoom ci sono i disegni lo sapete appena vedete che registro con l'altro microfono significa che c'è lo sfondo nero indietro sempre per via di spazio di spazio di spazio che cambia? lo trovo uguale? ok 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 Grazie a tutti. Attorno a me qua sono circondata da decorazioni natalizie perché mi serviranno per il video che devo registrare dopo, che vedrete domani, lunedì. Perché questo video lo sto registrando prima, per voi è domenica. Cioè, non molto prima, perché comunque non è un'organizzazione tremenda. Magari. Sono troppo curiosa. Alla prossima. Sto mattina ho la canzone in mente. Questo mi piace. La canzone è Alleluia. Non la canto perché, prima non sono le parole, poi fidatevi, non è il caso. Ma ce l'ho in mente, mamma mia, tutta la giornata. Non so se il suono sia troppo forte. 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 e ho tuttora, anche se è un po' di meno, la tendinità chi mi segue da più tempo, però mi stanco chi mi segue da più tempo saprà che anche i mesi fa avuto la tendinità e ogni volta che ho un periodo intenso dove ho molte cose da fare mi viene però sto mettendo la pomada e rispetto a qualche giorno fa è diminuito parecchio ma vi giuro, giorni fa stavo madonna, prima cos'era cioè, no, non si poteva, cioè non lo poteva usare mi stavo esaurendo poi appena ho messo la pomada acqua su un fuoco certo mi fa sempre male, però a differenza di prima no molto 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 meno, fortunatamente infatti sto facendo pure i video cioè, non ce la faccio stare senza fare niente è più forte di me mi scoccio troppo stavo pensando di comprarmi un libro che si chiama Norwegian Wood spero di pronunciarlo bene anche perché vorrei vedere il film è l'autore del libro giapponese e anche il film in giapponese non l'hanno doppiato in italiano se non ero quindi volevo vederlo però prima volevo leggere il libro più che altro perché è l'attore del... ora arriva mia parte nerd l'attore protagonista del film è un attore che mi piace ed si chiama Kenichi Matsuyama che è un attore giapponese per l'appunto ed è quello che ha interpretato Elle nel film di Death Note cioè tanta roba e mi rivolgo alle ragazze in questo caso è tanta roba poi ovviamente sono gusti, eh? e io non sono conosciuta per avere dei gusti bellissimi diciamo che definisco i miei gusti particolari non mi piace la... come dire? la perfezione nonostante la perfezione non esiste però preferisco sempre qualcuno di estetico sto parlando che abbia qualcosa di particolare ed è per questo che mi etichettano come ma che gusti hai? ma come? ma ti piace quello? è l'amico della mia vita o se non è scritto una mia vita che reg Johnson quindi prendere la mia vita l'amico della stelle la mia vita e la mia vita un'amico di è da perché è un'amico che può all'amico che credo un'amico è un'amico che deve darare Grazie a tutti. Ho cambiato notifica del cellulare. So che questa è una cosa che non interessa, però ci stavo pensando ora perché il telefono è qua vicino e ho tolto il Yes My Lord, ma è l'huto, e ho messo una musichetta di Naruto e anche la mia suoneria, proprio non del telefono, è Naruto. Eppure non ho in camera un disegno di Naruto, cioè sto così, come si dice qua, ingrippato, di Naruto e poi non c'è un disegno. E' un disegno. Oh wow. Nei commenti fatemi sapere qual è il pennello che vi è piaciuto di più. Tra questo, questo, sono uguali, però lasciamo perdere. E' questo. Mi piace questo qua perché proprio in generale mi piacciono i suoni più forti. No i white noise, no no no, quelli no. Però questo sì, oppure è il tapping veloce. Mi piacciono i suoni con grinta. L'altro giorno fece un sogno proprio, ma cos'era? Cioè, forse dovrei avere anche un po' vergogna nel dirlo, però frega, puntini puntini. Cioè, ho sognato di far parte dell'anime Yuri on Ice. Madonna. Cioè, io stavo vicino ai protagonisti. Il livello di disagio, in mio caso, è veramente infinito. Ed è strano perché di solito i miei sogni sono sempre pisanti. Però non mi va di parlare di questa cosa perché è un discorso lungo. E quindi quando ho sogni più leggeri me li ricordo. Perché è un caso uno su mille. E questo fatto del sogno di quest'anime. Una volta sognavi invece di essere, udite udite, Asuna di Sword Art Online. Io ero Asuna e mi trovavo nel mondo di Sword Art Online e scappavo da un gigante. Cioè, quindi ero Asuna, mi trovavo nel videogioco. Ed ero anche catapultata nel mondo dell'attacco dei giganti. Cioè, wow. E mi ricordo particolarmente quel sogno perché alla fine correvo e gridavo a scorciagola Kirito, che è la protagonista. Ok. E sono anche vestita, eh, come autano. Quindi... Wow. Ok, fanciulli, bellissimi suonatori. Questo video direi che è finito. Spero vi sia piaciuto, che il suono dei pennelli sia stato di vostro gradimento. Che quello che ho detto, come al solito, non ha molto senso. Perché i miei videochiacchiere sono così, sono molto 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 spontanei. Spero che... Vi abbia rassenerato un po'. Rassenerato. Si dice così. Io vi mando un bacio. E ci vediamo al prossimo video. O sia domani. Bye bye.